Ritornano dal 17 al 20 marzo sul lungomare di Salerno, in corrispondenza della sede storica della Camera di Commercio, i Chocolate Days, la festa del cioccolato, promossi ed organizzati dalla CLAI, in collaborazione con Tanagro e De Alenio, il patrocino del Comune di Salerno e dell'ente camerale. Una trentina i maestri cioccolatieri presenti, provenienti dalle cinque province campane, ma anche da altre regioni d'Italia, Sicilia, Veneto, Umbria, Puglia, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Friuli, Venezia Giulia e Molise. Non solo esposizioni e vendite, ma anche laboratori per bambini, per scoprire anche i segreti della cioccolata di Modica, con lavorazioni a freddo, degustazioni, previsto anche un incontro con gli studenti della Santa Caterina da Siena a Mendola, laboratori attivi tutti i giorni dalle 16 alle 18, stand invece visitabili dalle 10 alle 22. Quest'anno avremo 31 espositori, rispetto ai 15 dell'anno scorso, occuperemo 50 stand sul lungomare di Salerno, presenze da tutta Italia, presenze dal Piemonte alla Sicilia. Tutte le regioni sono rappresentate con le migliori aziende artigianali della zona. L'obiettivo è di rilanciare una cioccolata che spesso viene confusa con i prodotti industriali, invece ad esempio si punta l'attenzione anche su Modica, quindi sulla lavorazione a freddo e su tante altre cioccolate artigianali. Sì, Modica farà addirittura un seminario qua a Salerno per mostrare la tecnica di produzione del cioccolato. È chiaro che noi tendiamo a difendere il nostro patrimonio culturale, la nostra identità e la nostra identità è il bacio perugina fatto dalla Luisa Spagnoli e chiaramente su questa strada noi andremo avanti perché siamo certi che si possa abbinare l'artigiano con il turismo con le attività produttive più importanti di questa provincia.